Grazie a tutti è ottobre 20th, 2024 e è il sunday in Naples a questo momento è chiaro ma c'è un luogo in questo cielo e quindi un cielo medio ma la hai Què in dipsata dall'atmosfera in generale l'atmosfera l'atmosfera è послед offrite attraverso sen committee lì adesso ossia prima èционata ora risp primero alt 최za io giuro che se fosse da la prima volta che ho avuto un altro sto spinghapilm e se dovessero vedere le borse o vedere il secondo e se rappresa me non ho... I think non borio... Assev rappresa me non ho ricordato I think non borio... Non borio ci scena nella mia video E se si oppos... Indeed, I'm super... Whatever I see... I don't remember this thing for the sim and I did and also do a similar operation non sim... Identical operation e anche per l'interno di l'esame, infatti in l'interno di l'esame era molto interessante e quindi per l'esame è molto interessante, quindi se ci sono i casi negli anni, e quindi se si ricorda l'esame, anche se per me, ovviamente, penso che l'esame è molto interessante e mi ricordo che l'esame è molto interessante, molto interessante, considerando il periodo e ricordi che abbiamo partito da l'ultimo anno, in ultimi anni abbiamo avuto l'autunno come questo ma ripeto, questo è per me, non so se le altre persone hanno le stesse sensazioni e le stesse o 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 le stesse, e anche questo è un po' di atmosfera, non so se si può vedere, ma non è completamente bene, infatti non è vero, 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 non è vero non è vero, se si che ormai per se non è vero, non è vero, non è vero e non lo guardiamo capisci.... e' un'emozione importante con il suo atmosfera è il suo il suo Verive è l'esplosessionato Sì, adesso è a 6, sì, basta mi fuori, non mi ringe, ma io ho voluto sì, è tutto chiaro, come si sta formando, come ho visto? In queste giorni, in questo momento in cui, ora mi faccio o film in WP, ho visto che, non sono soluzioni, e credo che dovessi cantarci un po' inenza di un cappolico in F1. Non è fio, ma non è fio, ma certamente ha mostrato i cloudi. e il suo detto coltini, il suo risultato è un po' di magica e il suo risultato è un po' di risultato e se è chiaro, il secondo me scrive Well, I accidentally must a little bed at the moment Well, bed So series from my maticologhi di nuovo độ di insomma in modo di visto paradigma insomma niente morda nei miei ammaldi ad esempio capire il benossetto rispetto ad attività in genere for me, in fact ho rispetto a rispettello con il sentito e venito a shot attesivo a invece di smittire con il genere shot si guarda in questo studio niente bene e non sono diseguiti se non mi mette per i sminizzanti in questo shot non sono diseguiti se quanti si mette con il genio di shot e in finali, i programmi di colchie per il GX 640 e il PG 612F non sono diseguiti se mette con il genio di shot e ma il Previously che stima di Halify ai 15 subscribers non riuscite anche come dice non sono diseguiti sul video ti senti a bello. oro e tu vuoi stare odio in faccio nel breakfast, fintenne si è ovviamente ma che è stato tutto ma fintenne sono tutti a e fare via e ripetere, sono solo, non, non so, non mi ricordo finché ti ricordo di sembrare niente, su e saracce però ma l'importante cosa che riuscivo a essere è che in qualche modo vuoi stare odio in fortuna e mi ricordo e non so, io non so, sì ecco la stessa cosa non ho messo il team se la finora alzio tu moro la sua posa il fedente dai fax è stato nuovo, ma voglio, guardo, quello è il cool dappam, will see